gioia sport il blog con tutto lo sport della tua città gioia sport puntocom prima uscita per il nuovo centrocampista della gioiese andrea castellano andrea una partita tutto sommato positiva quella di quest'oggi al tuo esordio in maglia viola sì abbiamo fatto una buona partita ci stiamo allenando siamo pure carichi ma penso di aver fatto bene speriamo di continuare bene sei molto giovane sei un classe 93 arrivi da due esperienze importanti con la maglia di le maglie di acireale cosenza quindi hai già maturato un bel po di esperienza in un campionato difficile come quello di serie d secondo te che squadra ha prontato la gioiese è una squadra che può fare bene nella categoria sì certo noi possiamo fare un buon campionato per me possiamo possiamo fare un campionato tranquillo salvarci possiamo puntare pure qualcosa di più ma sta a noi il campo dirà il campo dirà tutto senti andrea conoscevi già la piazza di gioia tauro e qualche compagno sì c'era c'era castro poi c'era cinelli siamo venuti davide già c'era cinella è venuto quest'anno mi dicevano che è una grande piazza so che è una grande piazza per me è un onore vestire questa maglia quello che diciamo si è visto dalla tribuna almeno noi abbiamo potuto notare un centrocampo molto solido con te e con condomitti e con lombardo sia muscolarmente che tecnicamente sì c'è sergio che è un gran giocatore noi facciamo facciamo dei incontristi per lui cerchiamo di farlo giocare più a lui con la palla e noi cerchiamo di recuperare più palla carico è pronto quindi per la nuova stagione in serie d che sarà una stagione storica per gioia sì certo per me ve l'ho detto già prima per me è un onore vestire questa maglia spero di fare bene speriamo di facere di facere i diffusi alla città gioia sport il blog con tutto lo sport della tua città gioia sport.com